Buongiorno a tutti, ci scrive Vincenzo Dag proponendoci una prova, un test per il concorso ordinario che proveremo a risolvere. Prima di tutto desidero ringraziare tutte le persone che ci seguono costantemente. Floriana, che ringraziamo particolarmente, ha scritto di nuovo seguito questo video, il video relativo alla progettazione di un'unità didattica. Con attenzione devo dire anche a me che riesce a far capire come effettivamente si svolge questo multidimensionale lavoro. Ancora Floriana, se continuerò a seguire la diretta, ieri c'è stata una diretta con una vostra collega che sta partecipando a delle innovazioni e dei cambiamenti che riguardano la scuola. Ancora ringraziamo a Zuara, Laura, grazie Francesco, dai consigli saggi, riesci a trasmettere nozioni, la parte esperienziale che ti contraddistingue. Quello che fai è eccezionale. Matteo, grazie, hai proprio ragione. Ci sono anche delle persone che suggeriscono o che danno degli esercizi, come Vincenzo, ringraziamo Vincenzo, ringraziamo Alessandro Loss, Vincenzo, grazie in ogni caso, Adriano Floris, Viral Top Italia, Eva Kramer, Desiree, Stefania, Donatella Lazzara, Silvia, Antonello Lupi, Lina, Ella, Andrea, Manuel. Sono un po' di giorni che non faccio una diretta, siete veramente in tanti e ci avete scritto ancora Cristina Semino, ancora Giada Chioso, Antonella Lupi, Luigia, Mastrapasqua, Lina, Bedoglia, Andrea Bianchi, Nata83, La Scuola, Siamo Noi, Suomi, Papiro, Manuel Caselli e Isa Gemma. Se ho dimenticato di ringraziare qualcuno di voi, vi chiedo scusa, la lista è veramente grande, adesso andiamo ad analizzare l'esercizio. Allora, professore, segnate anche questo che sembra facile, ma io non ho trovato metodi risolutivi, cioè ha trovato un metodo risolutivo, ma non ho trovato metodi risolutivi rapidissimi. Fino all'altro ieri Marco aveva sostituito degli esami, aveva una media di voti di 26, ieri ho superato un esame con voto 30, la sua media è stata di 27. Quanti esami ha sostituito Marco, compreso quello di ieri? Beh, questo esercizio a mio avviso non è semplicissimo, perché tutto quello che riguarda la media, essenzialmente è una sommatoria di voti, allora la sommatoria in matematica di solito si scrive così, vi è una sommatoria di voti, adesso vi dico che significa questo qui, eh? Così, prima la teoria e poi l'esercizio, per i che va da 1 a n diviso n e ci dà il valore medio, x medio. Questa formulazione della sommatoria, che cosa significa la sommatoria per i che va da 1 a n? Significa x1 più x2 più, ci sarà anche l'x3 più puntini puntini puntini, fino ad arrivare a n meno 1 più xn, cioè abbiamo n valori, n esami, diviso il numero di esami e ci dà tutto questo il valore medio degli esami. Molto semplicemente, se è un esame, mettiamo caso abbiamo n uguale a 3, quindi a un esame prendiamo 25, a un esame prendiamo 24, a un esame 26, n è 3 e otteniamo la media, che in questo caso sarà 25. Va bene? Allora, possiamo dire che la media degli esami iniziali è 26, o anche riferita ad n meno 1. Con n meno 1 intendo il numero di esami meno un esame. La media finale, quindi la media comprensiva di tutti gli esami ennesimi, n è il numero degli esami, diventa 27. Ok? Questi sono i dati. Sappiamo già che possiamo scrivere la media in questa maniera qui. E allora, da adesso facciamo partire la... cerchiamo la soluzione dell'esercizio. Contiamo. 1, 2, 3, via. Allora, la... il 26 si ottiene da questo, con sotto n meno 1. Quindi, 26 lo possiamo... tutto questo qui lo possiamo scrivere come 26 che moltiplica n meno 1. Più l'ultimo esame, xn, quanto prende? Prende 30. Tutto, diviso n, è uguale alla media, x medio n, che è uguale a 27. Porto n qui. Quindi, faccio il prodotto, 26n meno 26 più 30 è uguale a 27n, porto il 26n al secondo membro e scambio. Quindi mi viene che n è uguale a meno 26 più 30 è uguale a 4. Fine. Ha sostenuto 4 esami, compreso quello di ieri. Ok, io ve l'ho fatto in 30 secondi, non lo so, forse un minuto, non lo so, due minuti, non lo so se da quando ho detto via, ve lo... quanto tempo che ho impiegato. Adesso però, quello che mi interessa è che, come diceva Vincenzo, che ci saranno delle, dei test, delle problematiche che riuscirete a risolvere in 20-30 secondi, ed altre in 2-3 minuti. Allora, qual è la strategia migliore? Fatevi assolutamente gli esercizi che credete di risolvere in meno tempo. Così, tutto quello che potete risolvere, lo risolvete. Poi, ovviamente vi richiedono meno tempo e su quali siete sicuri. Dopodiché, solo dopo, andate a prendere le tracce che richiedono più tempo. Perché, se così non fosse, se voi decideste di fare altrimenti, magari ci mettete 5 minuti per risolvere questo esercizio, altri 5 minuti per risolvere il secondo, andate in panico e consegnate una prova con 10 esercizi. Ovviamente, vi ritrovereste in una situazione fallimentare. Allora, io adesso questo esercizio ve lo spiego, perché chi non ha familiarità con i numeri e con la matematica, ovviamente non può pensare di risolverlo in così poco tempo. Però mi viene chiesto risolverlo in maniera più rapida possibile. In realtà, evitando di scrivere tutti i passaggi e risolvendo la mente, avrei potuto farlo anche meno tempo. Però, non è che io sono qui per dimostrare o quanto sono bravo o in quanto poco tempo riesco a fare l'esercizio. A me non me ne frega niente, a me quello che mi interessa è dare un valore aggiunto, insieme a questo video, insieme a questa diretta, a tutti quei video che possono e vi daranno una mano per superare il concorso, in questo caso concorso ordinario. Allora, riprendiamo, rispieghiamo brevemente quello che abbiamo fatto. Allora, sappiamo che la sommatoria di tutti i numeri, l'abbiamo scritto qua, diviso il numero dei numeri, il numero delle somme è uguale alla media. Questo è proprio il concetto di media. La media, se devo fare una media di numeri, vedo quanti numeri ho, x1, x2, ovviamente adesso uso dei simboli, perché mi è più comodo usare dei simboli anziché inventarmi questi numeri. Più, puntini puntini, avrò un terzo numero, un quarto, fino a un numero ennesimo. Diviso la somma, il numero delle volte che sommo i numeri, mi dà la media. Questa media era di 26 e poi diventa 27. Ovviamente qui dentro ci sarà anche xn-1. In questo caso sappiamo che qua ci sono quattro valori, quindi ci sarà il primo valore, il secondo valore, questo è il terzo valore, il quarto valore diviso 4. Ma io, questa somma, andiamo, forse è più facile, vi faccio vedere questo. Se vogliamo far uscire il 26, ossia x medio di n-1, che cosa facciamo? x1 più x2 più xn-1 diviso n-1. Quindi tutta questa somma qui, vi ricordate il secondo principio di equivalenza, moltiplicando ambe i membri per uno stesso numero, l'equazione rimane, non cambia. Quindi moltiplichiamo ambe i membri per n-1. n-1 si semplifica con n-1 e magicamente vedete che questa somma qui, che era anche questa somma qui, equivale a xn-1 per n-1. Equivale xn-1, eccolo qua, ma eccolo qua, è 26, per n-1, eccolo qua, eccolo qua, ed è quello che abbiamo scritto. Quindi tutto questo diviso per n-1, ecco, ce l'abbiamo qui, gli dobbiamo aggiungere xn, quindi aggiungiamo xn, aggiungiamo xn, che è 30. L'ultimo vuoto che prende è 30. Benissimo, dobbiamo dividere per n, abbiamo diviso per n, applichiamo di nuovo, moltiplichiamo ancora ambo i membri per n, fatto questo, n e n si semplifica e otteniamo, facendo il prodotto, 26 per n è 26, 26 per n-1 è meno 26, 26n-26, qua abbiamo 30 più 30, è uguale a 27n. Dopodiché abbiamo portato 26n al secondo membro, quindi, meno 26 più 30 è uguale a 27n-26n, 27n-26n, che è uguale ad n. A questo punto invertiamo i membri, scriviamo che n è uguale a meno 26 più 30, che è uguale a 4. Ok? Allora, vedete che facendo qualche passaggio in più, una volta che viene impostato l'esercizio, si giunge, ovviamente, ugualmente al risultato. La prima volta vi sembrerà tutto incomprensibile, la seconda volta vi sembrerà un po' più chiaro, la terza volta un po' più chiaro ancora. Magari farete un altro po' di esercizi simili e diventerà ancora più chiaro. Alla decima volta ci saranno coloro che già la prima volta magari avranno tutto chiaro e coloro che avranno dei dubbi anche la quarta-quinta volta. Non vi fermate, non dite, oh, io non ce la faccio. Continuate ad esercitarvi in maniera positiva e propositiva finché non avrete chiaro il modo di procedere. Allora, io con questo vi auguro, vi porgo un carissimo saluto, vi auguro una buona giornata, un buono studio, una buona preparazione. Mettetecela tutta, vi auguro di avere tanta motivazione e che dirvi, alla prossima!